E' entrambi, perché devo dire che dopo l'annata a Pescara chi mi ha seguito veramente sa che ho avuto dei problemi fisici che non mi hanno permesso di esprimermi al meglio. Quello che hanno visto a Genoa è la Padula con acciacchi fisici e quello che hanno visto la Padula a Milano è una padula sana. La differenza era questa, però ripeto io sono stati tutti e due e spero di poter essere la Padula che ha chiuso la stagione al Genoa. Mi hanno dato 4-5 partite alla Padula, quindi credo di aver già dato a livello di infortuni, sono arrivato qui che sto bene. Anche per questo ho scelto subito Lecce.